ciao ciao a tutti allora io parto subito nel dirvi che questo video non lo dovevo fare quest'anno infatti come vedete ho messo tutti altri video però non potevo perdere l'occasione perché il mio ragazzo pasquale mi ha fatto trovare un piccolo pensierino ma inaspettato perché non lo dovevo fare sia come video e sia non lo volevo ricevere che sinceramente cosa e niente adesso ciò che ci siamo ho pensato di fare il video questo piccolo uomettino si presenta così alla fine siamo sempre un po bambini ma è giusto per la curiosità che ci sta dentro così allora si chiama lion con sorpresa dovrebbero esserci questi questi personaggi non so se si rende bene dal video è così un momento di miniature del video ci ecco fatto allora lo andiamo ad aprire spero di esserci allora dolce e toys finissimi finissimo cioccolato al latte come sorpresa ok vediamo questo è il momento che ho di più aprire un nuovo che c'è lo spago vicino quindi un attimo di pazienza prendo le forbici e sistemo tutto ho preso i forbici detto napolitanamente c'è come si dice ma che se non fu io quello va a cattin' traduzione in italiano che se ne scappava l'uovo che stava proprio incastrato ecco qui forse ci siamo si sta un po' sciogliendo un piccolo passettino vediamo la sorpresina addio ecco qui come immaginavo è uscito questo personaggio della foto non so cosa sia cioè quale personaggio per i pupicini penso che lo lo so faranno sicuramente così così poi è uscito il cosa è questo stacca attacca gioca ma fosse pure dietro l'uomo comunque stava la carta davanti avete sentito solo la voce penso comunque stavo dicendo è uscito pure questo ma non mi non sta scritto stacca attacca e gioco gioco quindi va bene allora questi personaggi così io penso che questo qua il primo questo adesso passiamo all'assaggio del ovettino ovettino un semplice cioccolato al latte scusate per è buono come un orecchino piccolino non ho preso così ci sta non ho preso non ho preso così non ho preso così questo questo è un guido un po' misto assaggio dell'uovo mukbang sorpresa da scoprire abbiamo scoperto e abbiamo aperto l'uovo insieme io spero che questo video vi sia piaciuto è giusto per tenervi compagnia a chi non piace potete lasciare pure i non like sono alla fine sono gusti e io con questo vi auguro buona serata buona giornata e buon pomeriggio insomma qualsiasi orario lo vedete la carta si presenta così e questo io chiudo così ciao